Ciao a tutti e bentornati a Cosmopolinard! Su Netflix è uscita la prima e speriamo non ultima stagione di Lockwood Enco, sì che racconta i primi due libri scritti dal mio amatissimo autore inglese Jonathan Stroud. È una serie che potrebbe avere un successo pazzesco oppure passare quasi del tutto inosservata. Parliamone meglio assieme in questa recensione, prima senza spoiler e poi con spoiler, perché di cose ce ne sono da dire un sacco e vi prometto, cercherò di essere più oggettiva che potrò. Yeah, nonostante il mio grandissimo amore per i libri della saga! Ma prima di tutto c'è una cosa che dovete fare, ovvero iscrivetevi al canale YouTube di Cosmopolinard cliccando su tasino, iscrivete e attivando la campanella delle notifiche anche su cellulare che è sempre una cosa importantissima. E se volete supportarmi oltre che sopportarmi trovate un sacco di modi meravigliosi in descrizione a questo video come il mio podcast Super Gaffa Sail Rapitore di Gatti, la mia wishlist Amazon se volete farmi un regalo, andate a vedere che cosa vi garantisce il mio codice personale COSMO su Pampling, sito di magliette articoli nerd, non ne resterete delusi, oh no, bene ciancio alle bande! Cominciamo parlando dei tanti pro della prima stagione di Lockwood & Co., parte del video rigorosamente senza spoiler, quindi la potete vedere sia se avete già visto la prima stagione della serie, sia se siete indecisi e volete capire un po' di che cosa parla il Godest Serie. Ecco, composta da otto episodi di durata variabile però sempre attorno alla quarantina di minuti, racconta di questa Londra moderna ma alternativa, perché in pratica nella Londra di Lockwood & Co. che cosa è successo? Circa cinquant'anni fa è partita sta epidemia di fantasmi, cioè dal nulla sono spuntati i fantasmi, i fantasmi che hanno preso possesso di Londra, solo ed esclusivamente dal calar del sole fino all'alba fortunatamente, e quindi gli umani hanno dovuto organizzarsi di conseguenza. Considerate che gli adulti non vedono i fantasmi, possono magari percepire qualcosa di molto vago, tuttavia sono delle facilissime vittime per i fantasmi, perché nel mondo di Lockwood & Co. se un fantasma ti tocca, ti può provocare subito una cancrena che poi si diffonde in tutto il resto del corpo e schiatti male, schiatti male. L'unico modo per far fuori i fantasmi e tenerli a bada, e soprattutto eliminarli dai manieri, le case, i luoghi che appunto i fantasmi infestano, sono i ragazzini. I bambini e i ragazzini, sì, perché sono gli unici in grado di vedere, sentire o comunque percepire al 100% queste presenze. Ci sono varie tipologie di fantasmi, dai meno difficili da affrontare a quelli quasi impossibili, ecco, da ammazzare, mi fa ridere usare il termine ammazzare verso un fantasma, però insomma ci siamo capiti, ecco, da debellare. Tuttavia gli agenti, facenti parte di veri e proprie agenzie, però sempre comandate, organizzate, supervisionate dagli adulti, sono sempre bambini e ragazzini. All'interno della serie sembra che l'età legale per cominciare a diventare agente e affrontare rischiando la propria vita letteralmente i fantasmi sia a 13 anni, invece nei libri di Jonathan Stroud è molto prima, infatti la protagonista Lucy Carlyle inizia a fare l'agente nei libri a 8 anni, invece nella serie a 13. Appunto la protagonista è questa ragazza del nord dell'Inghilterra che, insomma, dopo avvenimenti molto tragici che le capitano in quanto agente e soprattutto non avendo una famiglia amorevole, scappa per cercare lavoro a Londra, gira tutte le agenzie, da quelle più famose a quelle meno, ma sembra non possedere i requisiti fondamentali per essere assunta quale agente. Tuttavia le resta in mano questo viso di Lockwood & Co., questa agenzia che, a differenza di tutte le altre, è gestita da ragazzi. Infatti è composta solo e esclusivamente da due ragazzi, Anthony Lockwood, che è anche il capo dell'agenzia, e George Karim all'interno della serie, invece è Cubbins all'interno dei romanzi di Jonathan Stroud. E in pratica lei viene assunta e entrerà a far parte di questo trittico che va a comporre la Lockwood & Co., appunto l'unica agenzia senza supervisori adulti, perché gli adulti sostanzialmente nella caccia e nell'eliminazione dei fantasmi sono inutili, oltre che la maggior parte delle volte delle vere e proprie palle al piede. E questa è l'introduzione di Lockwood & Co. Devo dire che l'adattamento, la serie Netflix, è fatto davvero bene, perché riesce a raccontare il mondo della saga letteraria in maniera molto puntuale, anche i personaggi sono fedelissimi ai libri. Il primo episodio è spiaccicato alle prime pagine del primo libro, in certi momenti proprio riproduzione uno a uno quasi, veramente i primi quattro minuti del primo episodio mi hanno fatto commuovere, perché ho visto proprio muoversi, ho visto i personaggi trasformati in persone che compivano esattamente le stesse azioni lette nei libri. Io sono affezionatissima a questi libri, quindi diciamo che l'adattamento Netflix lo attendevo con ansia, ma anche con tanto terrore, ed essendo una saga thriller investigativa, horror, il terrore ci sta decisamente bene. Sicuramente il lavoro di adattamento è il più grande pro della prima stagione di Lockwood & Co., perché è aderente ai libri tutte le volte in cui è giusto essere aderente ai libri e se ne distacca tutte le volte che serve, perché ricordiamoci che una storia che funziona sulla carta stampata non è detto che funzioni paro paro o anche in una trasposizione audiovisiva. Si prende delle libertà, ma mai troppe, e soprattutto non va mai in contrasto con la vera natura degli scritti, con il vero cuore degli scritti. Infatti l'autore è stato chiamato come consulente e tutte le modifiche che sono state fatte nell'adattamento sono state approvate direttamente dall'autore stesso, ovvero Jonathan Stroud, e si vede questo. C'è una cura nei particolari, anche nella caratterizzazione dei personaggi, un sacco di dettagli, esattamente come nei libri. Il world building è fatto benissimo, perché voi direte, vabbè, che ci vuole? È una Londra moderna, però è senza la tecnologia, perché comunque tutta la tecnologia e gli impulsi elettrici, insomma, non vanno d'accordo con l'infestazione fantasmatica, e quindi è una Londra moderna decisamente analogica, è una Londra in cui ci sono dei bambini, dei ragazzini, che vanno in giro la notte e per lavoro rischiano la vita, e ne muoiono a bizzeffe, ecco. È una Londra molto uguale, ma completamente diversa da quella che conosciamo nel 2023. E questo è molto bello, e mi è piaciuto tantissimo, che esattamente come nei libri non viene spiattellato tutto subito. Le rivelazioni riguardo la Londra raccontata in Locu Denko, ci vengono svelate, le rivelazioni svelate pian piano, non c'è uno spiegone iniziale così boom e avete tutte le informazioni che volevate avere e forse anche troppe, no? È tutto estremamente diluito, quindi anche la curiosità nello scoprire quali sono le differenze tra la realtà e questa Londra alternativa vengono, viene tutto soddisfatto pian piano. Mi piace tantissimo anche il lavoro della sigla, che tra l'altro è super catchy, questa musica tututututututu, che mi è piaciuta un sacco, che attraverso dei ritagli di giornale, dei titoli di giornale fa capire subito l'effetto del problema, perché così viene chiamata l'invasione di spettri negli ultimi 50 anni, no? E quindi diciamo che mi piace tantissimo quanta poca fretta abbiano avuto e sicuramente avranno nello show se ci saranno altre stagioni per raccontare il mondo di Locu Denko. Anche le caratterizzazioni dei personaggi si prendono il loro tempo, il loro giusto tempo e anche lo sviluppo delle relazioni tra di loro, no? Quindi veramente da questo punto di vista non ho niente da dire, mi è piaciuto tantissimo il lavoro fatto, perché io effettivamente mi rendo conto che do un po' per scontate queste cose, perché avendo letto i libri per me è normale che ci sia questa storia, questa ambientazione di questi personaggi, ma chi guarda per la prima volta Locu Denko, completamente vergine dalla storia letteraria, effettivamente ci sta che si possa stupire di fronte a determinate cose. Altro grandissimo punto di forza è i cast, i tre ragazzini che compongono il trittico, Lucy, Lockwood e George per me sono veramente perfetti. Anthony Lockwood è esattamente come nei libri, è perfetto, sono anche riusciti i tre interpreti a capire meravigliosamente bene l'essenza dei tre personaggi che si trovano a interpretare e c'è tantissima chimica tra loro tre, il che rende ancora più convincenti i dialoghi spesso brillanti e spesso presi paro paro dai libri, perché i libri sono meravigliosi, io vi consiglio la lettura assolutamente, in Italia sono stati tradotti i primi due finora, per Dindirindina, comunque sono i due raccontati dalla prima stagione di Lockwood & Co. su Netflix, perché c'è una brillantezza, c'è un sacco di humor brit, e per dire, nella serie, anche se si vede che veramente hanno quattro lire di budget, riescono veramente con questo approccio molto britannico a farne buon uso e a concentrarsi sui dialoghi, sulle interpretazioni, sulle caratterizzazioni dei personaggi, come la scuola Brit insegna ai cineasti o comunque gli artisti. Ecco, quindi tante cose buone, tante cose giuste, ve la consiglio un sacco, se arriverete alla fine dell'ottavo episodio ne uscirete con un sorriso e con la voglia di andare avanti soprattutto, che non è decisamente cosa da poco, e non è decisamente cosa da poco il fatto che pur parlando di adolescenti che si barcamenano, non sia un teen drama, e non ha tutte quelle dinamiche tipiche dei teen drama, che spesso fanno venire l'orticaria a chi non è più teen, quindi questa è una serie che va bene per tutti, non solo esclusivamente per gli adolescenti o chi ama i teen drama e non è più adolescente come la sottoscritta, ma purtroppo non è tutto plasma, fantasmatico ciò che luccica, perché ci sono dei contro, sì, pochi contro alla prima stagione di Lockwood & Co., tuttavia che in alcuni momenti mi hanno lasciato un po'... mi dicevo, sì, tali agenti della Lockwood & Co. e anche di tutte le altre agenzie indagano sulle infestazioni, indagano su come far fuori un fantasma e devono trovare la sorgente, ovvero quel fulcro, quel qualcosa di fisico, quel luogo, quell'oggetto a cui lo spirito del defunto si è attaccato e da lì trae la sua forza per manifestarsi. Quindi ci sono sì indagini, ci sono anche momenti action, ci sono momenti un po' thriller e ci sono momenti horror, perché Jonathan Stroud è un grandissimo autore horror e veramente ti tiene con l'ansia, continui a leggere pagina dopo pagina anche se sono le tre di notte, no, perché non riesci a fermarti per quanta ansia ti faccia venire, che non c'è nella serie. Purtroppo a questa serie horror manca l'atmosfera horror, perché in realtà l'horror non è tanto il mostro che fa cucù o il fantasma che fa cucù, ma è tutto ciò che l'attesa del mostro ti crea dentro, quello stato di devo stare con la luce accesa perché non riesco a guardare questo film o questa serie con la luce spenta perché aiuto, ho troppa paura. Manca purtroppo e soprattutto in due episodi veramente si percepisce pochissimo tutto ciò. Sto parlando del secondo e del terzo che a mio avviso restano i più deboli, perché se il primo e l'ultimo sono entrambi scritti e diretti da Joe Cornish e si vede la differenza, dal quarto in poi diciamo che iniziando a raccontare le avventure del secondo libro si riprende e comincia a diventare anche un pelo un po' più orrorifica, un pelo almeno un po' più suggestiva, ecco. E invece, nonostante il primo episodio sia molto bello a mio parere, il secondo e il terzo li trovo davvero un po' deboli. Dal punto di vista orrorifico, dal punto di vista delle investigazioni, dal punto di vista di tanto, perché purtroppo l'investigazione dal primo al terzo episodio, cambiando molto rispetto al libro e andando veloce come un treno, non riesce a prendersi tutto il tempo necessario perché diventi interessante. E alla fine, di come termina la storia dell'investigazione del primo grande caso, raccontato dal primo al terzo episodio, allo spettatore gliene frega più di tanto. Non lo so, ditemelo voi che non avete mai letto i libri, perché qua veramente c'è tanta differenza nella gestione di tutto ciò. E nella gestione dei casi in generale, diciamo, sono molto interessanti in potenza, ma poi come li vediamo, proseguire di episodio in episodio e nella scrittura purtroppo che manca quel quid in più, che avrebbe reso, secondo me, questo prodotto di per sé molto buono, ancora più acchiappante, o meglio, acchiappante esattamente come i libri da cui è tratto. Quindi, questi secondo me sono i contro, i contro di una serie che comunque è anche un po' disomogenea, insomma, il ritmo è un po' è un po' strano in certi momenti, perfetto in altri, ma appunto, è disomogenea. L'ho trovato un esperimento interessante, riuscito per la maggior parte, ma non completamente. Mi auguro che la serie abbia la possibilità di avere una seconda e anche una terza stagione. speriamo, incrociamo tutte le dita, ma appunto, vi dicevo, Locu Denko è una serie che può piacere tantissimo, come vi dicevo nell'intro, oppure non piacere affatto, oppure ancora passare nella totale indifferenza degli utenti Netflix. E davvero, questa volta, non so, tra virgolette, predire se possa essere un super top o un super hiper mega flop dal punto di vista dell'apprezzamento e dell'interesse mostrato dagli utenti di Netflix e dagli iscritti Netflix, badate bene. E vi spiegherò il motivo con spoiler, con spoiler. Sì, perché la serie Netflix è contemporaneamente più potente dei libri in alcuni momenti e anche però depotenziata. Quindi, davvero, è assurda questa cosa. Ovvero, più potente nel raccontare determinati approfondimenti del mondo di Lockwood & Co., di questo mondo in cui i bambini, i ragazzini vengono sfruttati dagli adulti e vengono messi in situazioni in cui la morte è abbastanza probabile, no? Perché gli adulti possano vivere in un mondo senza fantasmi o vivere nelle proprie vite senza rischiare niente, no? Quindi, questi adulti terribili che sacrificano la nuova, l'ultima generazione nata per il proprio benessere, no? Perché ci sono tutte queste tematiche anche nei libri di Stroud, però, almeno all'inizio, i libri sono un po' più spensierati, non superficiali, eh, spensierati, perché comunque Lockwood & Co., come avrete visto, nella serie e anche nei libri ha un grande senso dell'umorismo, ecco, nei libri di più. Invece, la serie è più dark, avete presente la scena, quella nel secondo episodio dell'ospedale dove c'è tutta quella enorme stanza con gli agenti non morti ma in prene di questa morsa fantasmatica, in questa sorta di coma, diciamo così, no? E quello veramente è un pugno nello stomaco e va a sottolineare ancora di più la crudeltà degli adulti in Lockwood & Co. E poi va a sottolineare ulteriormente una tematica che è anche molto attuale nel nostro mondo, non solo in quello di Lockwood & Co., ovvero i giovani che si trovano ad affrontare le conseguenze di scelte sbagliate, di errori, di cose compiute dalle generazioni precedenti, dai genitori, dai nonni e ne devono fare loro i conti rischiando di non avere un futuro più o meno letteralmente sia nel nostro mondo che in quello di Lockwood & Co. Quindi anche questo è molto importante ed è molto forte come è estremamente forte il desiderio di morte dei protagonisti pronti a sacrificarsi per gli amici ma pronti a sacrificarsi perché a loro sembra di non avere più niente da perdere in Lockwood vediamo tantissimo queste sfumature oscure che sì è un personaggio misterioso e in parte oscuro anche nei libri ma nella prima stagione dello show è inquietante quasi in certe situazioni sembra una bomba a mano pronta a scoppiare da un momento all'altro senza tuttavia rendersi conto che nel momento in cui scoppia e decide di eliminarsi dall'equazione della vita porta con sé anche i suoi amici Lucy e George e quindi c'è anche un egoismo estremamente egoriferito il personaggio di Lockwood nella serie veramente veramente tanto quindi viene dipinto in una maniera iperpotenziata e molto interessante poi torna il grandissimo tema della famiglia che non è quella in cui nasci non per forza ma sicuramente quella che ti costruisci che vediamo sempre di più ormai nei prodotti di intrattenimento insomma ci sono tante tematiche veramente superpotenziate che ci sono anche nei libri assolutamente ma vengono rese davvero iperpotenti nella serie e secondo me è una scelta giustissima tuttavia però vi dicevo appunto risulta depotenziata risulta depotenziata nel suo essere un prodotto comunque orrorifico e risulta essere depotenziata anche nella minaccia ma andiamo con ordine perché da un punto di vista orrorifico vi ho detto nella parte senza spoiler perché non fa paura ok ma perché non fa paura perché non si prende il tempo di creare l'atmosfera l'atmosfera si crea nei prodotti di intrattenimento con la lentezza non una lentezza esasperata che ti fa venire voglia di mandare all'aria tutto quanto ma nell'horror è fondamentale prendersi tutto il tempo necessario per costruirla questa atmosfera che purtroppo la prima stagione di Locu Denko spesso non ha perché non si prende il tempo per farlo perché ha un ritmo velocissimo e perché ha un ritmo velocissimo secondo me per andare più incontro alle volontà della generazione Z ovvero gli zoomers ovvero i giovani togci di cui tutte le major tutte le case di produzione tutti i prodotti di intrattenimento in generale cercano di conquistarsi il gradimento se non piace la generazione Z non sei nessuno ora non so quanto questo poi effettivamente sia vero e non so più che altro come la generazione Z prende e interpreta tutto questo lecchinaggio nei suoi confronti se poi sia così necessario oppure no perché un prodotto piaccia normalmente una cosa che funziona a prescindere dalle generazioni spoiler e che un prodotto sia fatto bene sia bello ecco così no per dire ecco quindi l'oku den ko sembra più o meno volontariamente proprio un seguire passo passo l'algoritmo di ciò che piace alla generazione Z e a quanto pare gli zoomers ci piace la velocità e quindi a quanto pare se vuoi fare un prodotto che piace alla generazione Z devi andare super veloce e quindi se sei un horror sei fregrato perché non riesci a creare l'atmosfera non riesci a creare inquietudine no vabbè insomma quindi questo secondo me è una scelta sbagliata che va a depotenziare poi alcuni momenti chiave della narrazione della prima stagione cioè allora avete presente la stanza rossa che si vede nel terzo episodio nel libro c'è un sacco di sangue litri litri quasi un mare di sangue no che si muove anche formando delle braccia per cercare di afferrare i tre ragazzi cioè crea veramente un'angoscia quel momento lì nel libro pazzesco un'angoscia terribile e poi soprattutto il sonoro che purtroppo nella scena della stanza rossa viene un po' trascurato questo insomma bellissimo no e nella serie invece non fa paura per niente sembra una tappa ok abbiamo chiuso la stanza rossa andiamo giù e la vera scala urlante che è quella attraverso o meglio sulla quale hanno trascinato giù i monaci no prima che fossero buttati nel pozzo ecco quella lì è una scala che proprio fa degli urli tali che ti perfora il cervello infatti sia Lucy che è un'uditrice ma anche George e Lockwood quando arrivano poi al fondo della scala sono talmente assordati che un po' si vogliono buttare giù nel pozzo un po' non sanno cosa fare e quindi commettono un sacco di errori perché sono totalmente rintronati da questo urlo pazzesco che gli penetra nel cervello invece nella serie fa ci sono i monaci fanno il che appunto va a depotenziare terribilmente l'efficacia e l'effetto e la riuscita e vi dicevo poi secondo me grande motivo di sioc da parte della sottoscritta sempre per quanto riguarda il depotenziamento durante la prima missione che vediamo raccontata ovvero quella nella casa che viene bruciata appunto da Lucy e Lockwood Lockwood viene toccato dalla fantasma dalla tipa uccisa gli viene toccata la mano e gli parte tutta una cancrena che si può fermare se in tempo viene fatta un'iniezione di adrenalina nel libro questa tematica non viene affrontata nella serie purtroppo e la cosa bella è che poi si riprende chiaramente ci vuole qualche giorno ma si riprende tranquillamente a parte che ciò va ulteriormente a far leva sul senso di colpa che Lucy si porta addosso da tempo in memoria anche per altre scelte sbagliate che lei pensa di aver preso in passato ecco ma poi soprattutto il fatto che Lockwood venga ferito venga toccato da un fantasma nella prima missione che ci viene raccontata della loro agenzia è fondamentale per farci capire la vulnerabilità di Lockwood la vulnerabilità degli agenti che possono davvero essere feriti possono davvero morire da un momento all'altro invece purtroppo il nostro trittico per tutta la prima stagione dello show ha un plot armor ovvero un'armatura data dalla necessità della trama incredibile ed è ovvio che saranno vivi no almeno fino alla fine della prima stagione ecco però non rischiano neppure un momento cioè si fanno un taglietto massimo quanto avrebbe maggiormente accresciuto il rischio o la sensazione di rischio nei confronti delle loro sorti se davvero anche nella serie Lockwood fosse stato toccato dal fantasma durante appunto tutto il caso di Annie Ward quanto sarebbe stato più interessante più figo e migliore lasciatemelo dire quindi davvero non capisco perché non abbiano preso questa decisione e cioè di riproporre la stessa cosa raccontata nel libro anche nella serie è assurdo perché per quanto rendano più dark e rendano più pesanti e anche interessanti determinati punti e determinati argomenti che vi ho raccontato precedentemente altri invece che sono fondamentali non tanto da un punto di vista di critica sociale ma da un punto di vista di meccanismi della riuscita della narrazione e della narrazione di quel genere lì boh spariscono completamente nel lettere ok capisco anche la scelta di fare i personaggi un po' più grandi di tipo due anni rispetto ai personaggi nei libri e capisco anche il fatto di rendere i ragazzini idonei all'assunzione nelle agenzie dai 13 anni in su quando invece nei libri già da 8 anni può essere assunto come agente ok e per rendere il tutto meno terrificante un po' più safe ok però poi mi vai a mettere scene come quella in ospedale con tutti quegli agenti in coma no cioè quindi alla fine anche da questo punto di vista qua è disomogenea anche nelle intenzioni cioè vuoi essere meno terrificante rispetto ai libri quindi più adatta anche per un pubblico più giovane che poi i bambini guardano un sacco di film horror amano un sacco i film horror quindi sicuramente non si scioccano per quello che vedono in Lockwood & Co anche i libri i libri sono per ragazzi ma li leggono tranquillamente i bambini ecco cioè vogliono renderla un po' più depotenziata un po' più sciapa un po' più adatta a tutti però poi mi mettono delle scene che sono ancora più impressionanti di alcune nei libri quindi visto che ha così tanti elementi di interesse ma anche alcuni elementi che forse potrebbero non interessare il pubblico mainstream non c'è un limone tra i protagonisti non c'è un triangolo tra i protagonisti non c'è niente di tutto ciò secondo voi potrà essere una hit Lockwood & Co oppure un clamoroso flop dal punto di vista del gradimento degli utenti della piattaforma ovvero Netflix io chiaramente mi auguro che sia un successo e che vada avanti non per stagioni per generazioni ma voi che mi dite che cosa avete percepito da questo progetto che cosa leggete nell'aria sia da noi che magari oltreoceano o nei paesi anglosassoni ecco che sicuramente il prodotto è un po' più orientato verso quel pubblico lì e meno verso quello italico comunque non vedo l'ora di monitorare l'andamento della serie farò tipo l'analista e per Dindirindina perché il teschio parlante non fa ridere non è brillante come nei libri perché mi avete depotenziato pure lui SIG Dindirindina